Qualche giorno fa un consigliere comunale, il rappresentante locale di Confcommercio ed alcuni volontari si armarono di bitume in sacchetti e pale e fecero da sé. Chiusero le buche più profonde e pericolose sulla strada provinciale 13 che collega Castellaneta alla statale ionica, cioè al mare. Una protesta eclatante dopo che da tempo sindaco, amministratori e associazioni varie continuano a segnalare alla provincia la pericolosità di questa strada dove ogni giorno si verificano gravi incidenti. E poiché mai è giunta una risposta, due giorni fa il primo cittadino della città di Valentino, Giovanni Gugliotti, ha emesso un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, ordinando al presidente della provincia, ente proprietario della strada, di mettere in sicurezza l'intero tracciato entro sette giorni. Un atto non da tutti i giorni, dettato però da due elementi. L'esasperazione da un lato per le mancate risposte nei mesi scorsi, la volontà dall'altro di trovare insieme una via d'uscita a questa emergenza. Il sindaco Gugliotti ha già proposto una serie di possibili soluzioni senza ottenere nulla. Sette giorni di tempo dunque. Poi, dice il sindaco, ho tre alternative. Chiudere la strada con ordinanza, a salvaguardia della salute dei cittadini, oppure occuparla fisicamente fino ad intervento ottenuto o ancora fare una colletta e riparare almeno i tratti più critici.